è andato uomini delle caverne tutto senza attrezzi a rischio di tetano dai che è andato è un pezzo raro del 1800 quello lì se la cinese si era già rotto da tre ore vai Michi uccidi ecco tutto adesso viene fuori almeno sei metri di coso sei metri guarda che se ci ha attaccato il collo di uno siamo fregati siamo fregati continua a tirare viene sempre fuori di più è già arrivato un metro si mi sa di si tira vai glielo portiamo glielo diamo allora dai dai che è un cosa del bidone sai che chiudono i bidoni con il legaccio tiramelo in testa mi raccomando mi raccomando cazzo è riuscita a non prendermi glielo porta la collana per spampi così lui è contento adesso me la metto al collo io che arrivo là su questo e vomita scommetti vomita lui guai ce l'ha fatto è sopravvissuto 2 minuti di video hai fatto sono morto cazzo